I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Vomero hanno arrestato per spaccio un 59 napoletano già noto alle forze dell'ordine. I militari dell'arma in servizio a bordo di uno scooter tra le strade del quartiere hanno sorpreso l'uomo in via Andrea da Salerno mentre cedeva due dosi di cocaina a un suo coetaneo. Perquisito è stato trovato in possesso di altri tre involucri contenente la stessa sostanza stupefacente. L'uomo è in attesa di giudizio e in attesa di accertamenti è risultato anche percettore del reddito di cittadinanza e per questo motivo i carabinieri lo hanno segnalato all'Inps per i provvedimenti del caso. Diversi inoltre i blitz antidroga nella periferia con perquisizioni a opera dei carabinieri in diverse abitazioni di via Stadera e per le strade di Ponticelli. A finire in manette un 39enne napoletano trovato in possesso di 307 grammi di hashish e 276 grammi di marijuana. Trasferito nel carcere di Poggio Reale l'uomo deve rispondere di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. In un'altra perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 214 stecche di hashish per un peso complessivo di 485 grammi di droga. Lo stupefacente, pronto alla vendita al dettaglio, era all'interno di una busta che era stata messa in un tombino fognario di via Paolillo, alla periferia di Napoli.